Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926, mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina, il tasto mi piace e un commento se ti va perché i commenti sono fondamentali per l'algoritmo di YouTube. Detto questo, Spezia Napoli, il video del giorno dopo uscirà più tardi, ora penso uscirà verso le 16, questo uscirà alle ore 18, scusatemi, uscirà questa sera alle 6, questo uscirà alle ore 4, quindi due video per oggi ragazzi. Volevo parlare di quello che è successo ieri, non tanto della partita perché poi ne approfondiremo anche con le parole di Luciano Spalletti, ma volevo parlare di quello schifo che è successo sugli spalti ieri ragazzi. Perché nella giornata di ieri, nel quale io ne ho anche parlato ieri un pochino, va bene, nel post partita, questo è successo che i tifosi dello Spezia ragazzi da due anni a questa parte, ovvero da quando sono in Serie A, tutte le volte che tu vai a giocare lì succedono cose incredibili. Succedono cose incredibili sugli spalti, che non è la prima volta, quindi ragazzi è continua la cosa, no? E questo è quello che mi fa rabbia, perché in un anno non è cambiato nulla in Serie A, ecco. Poi ci domandiamo come mai la Premier League fa tutti questi grandi ascolti, questi grandi finanziamenti verso la Premier League. Ecco, fatevi due domande e datevi anche una risposta, cari tifosi, no? Perché poi è facile dire è la Superlega la Premier League, ma magari, magari facessero una Superlega solo della Premier League, ma magari, almeno state tutti quanti zitti. Detto questo, io, oramai per i cori contro Napoli, nemmeno ci faccio più cazzo, perché Waiu è stato dal minuto 0 al minuto 90, tutto un oio Napoli, Vesuvio Lavali col fuoco, Napoli colera, e tutte queste cose. E vabbè, tanto oramai su questo, ci siamo abituati, lo sapete anche voi, no? Oramai ci siamo abituati, in ogni stadio del nord dove il Napoli va a giocare, ragazzi, è tutto un lavali col fuoco, noi non siamo napoletani, è tutta roba così. E tu dici, vabbè, ma che ti incazzi a fare tanto sono sempre i soliti sfottò, dove la Lega Serie A non fa mai niente, l'albitro doveva intervenire e poteva far intervenire lo speaker dello Spezia, dicendo guardate, smettete di fare i cori perché se no la partita verrà sospesa, e invece no, cosa si fa? Noi continuiamo con queste ideologie da medioevo, no? Perché io è lì che mi vorrei applicare, non mi voglio nemmeno arrabbiare, perché questa gente qui non meriterebbe nemmeno, nemmeno l'onore di essere menzionata, però lo faccio perché allo stadio ci vanno gente con dei figli, e se io vado in curva con mio figlio, se io voglio portare Diego allo stadio, va bene, non posso portare mio figlio allo stadio perché c'è qualche deficiente di fianco a me che grida lavali con il fuoco, vesuvierutta, colerosi, ma tu che sei in curva e canti questi cori e magari c'hai tuo figlio a fianco, ma non ti fai schifo solo tu, non ti fai schifo da solo, cioè io è questo che non riesco a capire, la mentalità che c'ha l'italiano medio, perché qui parliamo di italiano medio, è questa, di offendere una regione, un popolo senza senso, senza senso, e poi c'è gente che sotto i commenti, sotto questi post che sono usciti oggi, tu hai l'idea, ma tanto che vuoi, peggio, si meritano di peggio, speriamo i rutti, c'è roba scandalosa ragazzi, nel 2023 ancora a sentire queste cose schifose e scandalose, però come detto, io queste cose me le faccio scivolare addosso, perché tanto oramai sono stato sempre abituato, quando io sono qui in Toscana, Terrone, Napoletano, Terrone, Monnezza, io mi sono sempre fatte scivolare solo perché mi sento superiore, quello che non mi va bene ragazzi sono i cori contro un morto, contro Diego Armando Maradona, cioè questo mi fa schifo, mi fa veramente schifo, Maradona pippa, Maradona è morto e viva Maradona è morto, cioè ma quanto cazzo siete ridicoli, quanto, non vi fate schifo da soli, è questo che non riesco a capire, ma non vi fate schifo sullo buio, cioè tu vai a intonare i decori contro una persona che è morta, bravo, bravo, dovresti essere contento, sei contento, l'hai fatto il coro contro Maradona, bene, a te cosa te ne viene, è questo che io non riesco a capire, la grande mentalità che hanno in Premier League, in Premier League, quando è stata rifondata la Premier League, quando è stato deciso di rifondare la Premier League, di tenere il tifo sporco fuori dagli stati, va bene, lì è diventata grande la Premier League, lì è diventato un campionato appetibile per le PTV e per le famiglie, va bene, in Italia no, in Italia questo non potrà mai accadere, in Italia questo non potrà mai accadere, perché se ci fosse una giustizia, il campo dello Spezia verrebbe squalificato per tre partite, ma lo sappiamo, siamo in Italia, meglio girarsi dall'altro lato, vero, care istituzioni, sempre e comunque forza Napoli, da vostro Napolis 1926, ci vediamo alle ore 6, e poi ci vediamo al video. Ciao!